Festeggia con noi l'arrivo del nuovo anno, Piemonte Volle Online, il miglior modo per concludere 2013, una splendida scelta per iniziare 2014. Fatti accompagnare dalle rubriche dei servizi di PVO, approfondimenti sul Club Piemonte e sui Regional Day, la stagione delle rappresentative piemontesi alla ricerca del sogno chiamato trofeo delle regioni. A Natale si è tutti più buoni, ma il volley in rete non abbassa la guardia e scruta i siti web delle società piemontesi. In questo numero una panoramica su tutti i campionati dalla Serie A alla Serie D, fino ai gironi regionali giovanili. E per concludere la seconda puntata dello speciale sui calendari del volley, un'ottima idea regalo per vivere ogni giorno del 2014 a contatto con atlete e atleti del nostro sport. Buon compleanno a tutti i tesserati nati dal 29 dicembre al 9 gennaio. E a tutti voi tanti auguri di buon anno da PVO. Il volley vive qui, anche il prossimo anno.